Oggi è proprio un buon profumo, che cos'è? Profumo? Non è esattamente un profumo? Ma si sente benissimo che è un profumo In effetti è un profumo, ma è anche un deodorante Shhh, è un profumo, un deodorante Ma come fa? Senti, perché non lo provi? È Up21 Up21? Up21, oltre che deodorante, è anche profumo Up21, un deodorante e cinque sofisticati profumi ora insieme Up21, anche nella versione con vaporizzatore senza gas Up21, anche nella versione con vaporizzatore